Benvenuti a Tripilare, like e iscriviti! Hai un po' di ore per spendere in Bergamo e vuoi fare qualcosa incredibile? Puoi andare all'upper parte di Bergamo, chiamata Bergamo Alta, usando il funiculare. Quando vai fuori del funiculare, sei nel centro di Bergamo, che è pieno di piatti, barri e restauranti. In solo 10 minuti, sei nella piazza Vecchia. In questa piazza, c'è la Civi Tower, commonly chiamata Campanone. Puoi andare all'interno per vedere l'amaizionale vista. Puoi andare all'interno con il piazza, o con le piazza. L'ascensore e le scale. Noi scegliamo... L'ascensore. Bello! Dopo scendiamo dopo le scale. Ok. L'ascensore. L'ascensore ti porta quasi all'interno. Ma dovresti camminare una piccola strada per arrivare all'interno. e la piazza. Da parte della città, puoi sentire una vista 360 gradi e una straordinaria vista della città, le prealpe Orobie e la Lombardia. Piazza. Il mio momento favorito del giorno per riuscite è il sole. Non pensate che sia incredibile? Questo è un'ottima cosa da fare sia tanto in summer e in winter In winter, a top of the tower, può essere un po' cold e a volte un po' windy Ma non bisogna restare per tanto tempo A più di più, il ticket anche includes un'interactive museo dove puoi restare insieme prima di andare ancora Una buona opzione alternativa è anche qualcosa di gusto per mangiare o mangiare In winter, un delizioso cioccolato è sempre una buona idea Applausi il mio cioccolato cioccolato? Vi saluto! Ciao! Like and subscribe!